MISERIA UMANA Jean Despard diceva con animazione Lasciatemi in pace con la vostra felicità da talpe, con la vostra felicità da imbecilli, soddisfatti se vedete una fascina che fiammeggia, se bevete un bicchiere di vino vecchio o se potete strusciarvi a una femmina. Io vi dico sì che la miseria umana mi sconvolge, che la scruto dappertutto, attentamente, che la scopro dove voi non riuscite a vedere niente, voi che camminate per la strada con il pensiero rivolto alla festa di stasera e alla festa di domani. Ecco qua. L'altro giorno, nell'avvenu dell'Opera, in mezzo a una folla turbolenta, allegra e inebriata dal sole di maggio, ho visto all'improvviso passare un essere, un essere innominabile, una vecchia piegata in due, vestita di cenzi che un tempo erano stati vestiti, con un cappello di paglia nera sul quale non si trovavano più i primitivi ornamenti, privo di nastri e di fiori ormai scomparsi da tempo immemorabile. Andava trascinando i piedi in maniera così penosa che nel cuore sentivo come lei, più di lei, il dolore di ogni passo. Si sorreggeva con due bastoni, andava senza vedere nessuno, indifferente a tutto, al rumore, alla gente, alle vetture e al sole. Dove andava? Verso quale Tugurio? Portava qualche cosa in un fagotto che pendeva da uno spago. Pane, forse. Perché nessuno, nessun vicino aveva potuto o voluto farlo invece sua. Aveva intrapreso quel viaggio orribile dalla sua soffitta fino al fornaio. Almeno un paio d'ore di strada tra andare e tornare. E che strada dolorosa! Che via Crucis! Più spaventosa di quella di Cristo! Alzai gli occhi ai tetti dei grandi edifici. Andava lassù. Quando sarebbe giunta? Quante volte avrebbe dovuto tormentosamente riposarsi sugli scalini lungo la piccola scala nera e tortuosa? Tutti si voltavano a guardarla. Qualcuno mormorava. Povera donna! Ma poi tirava di lungo. La sventurata strascicava la sottana sul marciapiede. Uno straccio di sottana appena attaccato a quell'avanzo di corpo. Eppure c'era il pensiero di quel corpo. Il pensiero? No. C'era una sofferenza spaventosa, incessante, tormentosa. La miseria dei vecchi senza pane. Dei vecchi senza speranza. Senza figli. Senza denaro. Senza alcun'altra cosa davanti a sé. All'infuori della morte. Ci pensate. Pensate ai vecchi affamati nelle soffitte. Pensate alle lacrime. Di quegli occhi cupi. Che un tempo furono brillanti. Emozionati e allegri. Rimase zitto per qualche secondo. Poi ricominciò. Tutta la mia gioia di vivere. Per adoperare un'espressione cara a uno dei più potenti e profondi romanzieri del nostro paese. Emil Zola che ha visto compreso e raccontato come nessun altro la miseria di coloro che vivono in maniera infima. Tutta la mia gioia di vivere è scomparsa. Se ne è volata via all'improvviso tre anni fa. In autunno. Un giorno che ero a caccia in Normandia. Pioveva. Me ne andavo solo per la pianura attraverso i campi arati di fresco. Nella mota grassa che cedeva e scivolava sotto i piedi. Di tanto in tanto una pernice, sorpresa accovacciata contro una zolla, volava via pesante sotto i rovesci. Il colpo del mio fucile, attutito dallo scroscio che veniva giù dal cielo, schioccava appena come una frustata. E la bestia grigia si abbatteva con il sangue sulle penne. Ero così triste che quasi piangevo. Avrei pianto anch'io, come le nubi che piangevano sul mondo e su di me. Intriso di tristezza fin dentro il cuore. Così schiacciato dalla tristezza che non potevo più alzare le gambe dal pantano. Stavo per rientrare. Quando scorsi in mezzo ai campi il calesse del dottore che andava per una scorciatoia. La vettura nera e bassa, con quel soffietto rotondo, era tirata da un cavallo bruno. Passava come un presagio di morte. Errando per la campagna in quel giorno sinistro. Dunco, tu si fermò. La testa del dottore venne fuori. Gridò. Ehi, signor Despar. Andai verso di lui. Mi disse. Avete paura delle malattie? No. Volete aiutarmi a curare un'ammalata di difterite? Sono solo e bisogna reggerla mentre io le tolgo la membrana dalla gola. Vengo con voi, gli dissi, e salì sulla vettura. Ed ecco quello che mi raccontò. L'angina, la spaventosa angina che strangola la povera gente, era entrata nella fattoria dei Martinet, poverazzi. Il padre e il figlio erano morti al principio della settimana. La madre e la figlia se ne stavano andando anche loro. Una vicina che le curava, sentendosi improvvisamente indisposta. Aveva preso la fuga il giorno prima, lasciando aperta la porta, e le due ammalate rimasero abbandonate sui loro giacigli, senza niente da bere. Sole, ansimanti, soffocanti, agonizzanti per ventiquattro ore. Il medico aveva pulito la gola della madre e le aveva dato da bere. Ma la figlia, ossessionata dal dolore e dall'oppressione del soffocamento, aveva cacciato la testa nel pagliericcio e non si era lasciata toccare. Abituato a simili miserie, il dottore ripeteva con voce triste e rassegnata «Non posso stare tutta la giornata da quelle due malate. Per Dio!» mi fanno stringere il cuore. «Quando si pensa che sono rimaste ventiquattro ore senza bere!» Il vento mandava la pioggia fino ai loro giacigli, e i polli si erano messi al riparo nel focolare. Giungemmo alla fattoria. Il medico attaccò il cavallo a un ramo di un melo, davanti alla porta. Entrammo. Un forte odore di malattia e di umidità, di febbre e di muffa, di ospedale e di cantina, ci prese alla gola. Era freddo, un freddo da palude, in quella casa senza fuoco, senza vita, grisa e sinistra. La pendola si era fermata. La pioggia veniva giù attraverso la gola del camino, dove i polli avevano sparpagliato la cenere. In un angolo buio si sentiva un rumore, come un soffio rauco e ansimante. Era la bambina che respirava. La madre, distesa in una sorta di grande cassa di legno, il letto dei contadini, e semi nascosta tra vecchie coperte e vecchi panni, pareva tranquilla. Voltò un poco la testa verso di noi. Il dottore le chiese «Avete una candela?» Quella, con voce bassa, sfinita, rispose «Nella credenza». Il dottore prese il lume e mi condusse in quell'angolo della stanza, dove era il lettino della bambina. La piccola ansimava, aveva le gote scavate, gli occhi lucidi, i capelli arruffati. Faceva spavento. Nel collo magro e teso, ogni volta che respirava, ne si formavano due solchi profondi. Era distesa sul dorso, stringeva le mani sugli stracci che la coprivano. Quando ci vide, si voltò e nascose la faccia nel pagliericcio. La presi per le spalle e il dottore, costringendola a mostrare la gola, ne tolse un gran pezzo di pelle biancastra che mi parve secca come il cuoio. La bambina respirò subito meglio, beve un poco, La madre, appoggiandosi su un gomito, si voltò e ci guardò. Balbettava, Fatto? Sì, è fatto. Resteremo sole, ora? Una paura, una terribile paura, le faceva tremare la voce. Era paura di quell'isolamento, di quell'abbandono, delle tenebre e della morte che sentiva così vicine a sé. Risposi, No, brava donna, aspetterò che il signor Pavion abbia mandato qualcuno che pensi a voi. E voltandomi verso il dottore, dissi, Mandatele mamma a Maudì, la pagherò io. Benissimo, ve la mando subito. Mi dette la mano e uscì. Sentì il calesse che si allontanava sulla strada umida. Rimagi solo, con le due moribonde. Il mio cane Pav si era messo a cuccia, davanti al focolare. Così mi fece pensare che un po' di fuoco avrebbe fatto bene a tutti. Uscì per cercare legna e paglie. Ben presto, una grande fiammata illuminò la stanza fino al letto della bambina che ricominciava ad ansimare. Sedetti, tenendo le gambe tese verso il focolare. La pioggia batteva sui vetri, il vento scuoteva il tetto, sentivo l'ansimare corto, duro, sibilante delle due donne. Mi sentivo anche il ronfare del mio cane che sospirava di piacere, acciambellato davanti al camino illuminato. La vita, la vita. Che cos'è dunque? Quelle due poverette avevano sempre dormito sulla paglia, mangiato pane nero, lavorato come bestie, sofferto tutte le miserie della terra e ora stavano per morire. Che cosa avevano fatto? Di male. Il padre era morto, il figlio era morto. Eppure si parlava di questi disgraziati come di brava gente, amata e stimata, semplice e onesta. Guardavo fumare i miei stivali e guardavo il cane che dormiva e in me si diffondeva una gioia sconosciuta, profonda e anche vergognosa se facevo il paragone tra la mia sorte e quella di questi forzati. La piccola incominciò a rantolare. Improvvisamente sentii che quel soffio ranco mi era diventato intollerabile, mi straziava come una lima e ogni colpo mi mordeva nel cuore. Andai verso di lei. Vuoi da bere? Le dissi. Agito la testa per dire di sì e allora le versai in bocca un po' d'acqua che però non le andò giù per la cola. la madre più calma si era voltata per guardare la figlia ed ecco che improvvisamente fui preso dalla paura una paura sinistra che mi scivolò sulla pelle come un mostro invisibile. Dov'ero? Non sapevo forse sognavo che angoscia mi aveva ferrato. Potevano dunque esistere davvero cose simili. Si poteva morire così e guardavo negli angoli oscuri della capanna come se mi fosse aspettato di vedere rannicchiata in un angolo oscuro una forma orribile innominabile spaventosa colei che spia la vita degli uomini e li uccide li consuma li schiaccia li soffoca chiama il sangue rosso gli occhi accesi dalla febbre le rughe le cose appassite i capelli bianchi e la decomposizione. Il fuoco andava spegnendosi giatai un po' di legna nel camino e mi scaldai la schiena avevo molto freddo alle reni io almeno speravo di morire in una bella camera con i medici intorno al letto e le medicine sui tavolini queste donne erano rimaste sole 24 ore in questa capanna senza fuoco avevano da bere solo acqua e non potevano fare altro che rantolare sulla paglia improvvisamente senti il trotto di un cavallo e il rumore di una vettura era l'infermiera tranquilla contenta di aver trovato qualche cosa da fare senza alcuna meraviglia di fronte a quella miseria le lasciai un po' di denaro e me ne andai con il cane scappai come un malfattore correndo sotto la pioggia mi pareva di sentire continuamente il soffio di quelle due gole e correvo verso la mia casa calda dove i domestici mi aspettavano preparandomi un buon pranzo che c'è un buon pranzo che c'è un buon pranzo che c'è un buon pranzo